buongiorno a tutti ragazzi oggi mi trovo in puglia precisamente al ruovo di puglia perché sono sceso in italia perché fra qualche giorno c'è la gara nbfi memfisi del mio personal trainer vicino a firenze e nulla sono venuta qui a supportarlo però prima di farvi vedere un pochino come funziona una gara a livello diciamo professionistico è tutto vi faccio vedere un allenamento e dunque oggi c'entrò ma da allenare con lui vi farò vedere tutto e vi farò naturalmente più dare dei consigli comunque ragazzi io sono passato dai 5 gradi di tublino e 25 plus perché ieri restavano 30 gradi di di ruovo di puglia ma puglia in generale una sensazione bellissima sembra sembra che sia tornata l'estate anche se qui stranamente come le persone in giro con le giacchi ma che c***o buongiorno ecco ragazzi lui sarà il protagonista dei prossimi video ok ragazzi siamo qui nel club ferrucci se non lo conoscete andate a cercare un pochino su internet uno strongman a livello internazionale è arrivato anche frankie command ci siamo ma penso proprio di sì dai quanti chili erano fra 125 oggi leggero perché è il cavale co della morte quanti carbo 100 caro solito di credo ne ho almeno 400 ecco ora tocca a me caricherò 160 chili per 5 ripetizioni per 5 set perché abbiamo in programma una bella gara di deadlift in futuro l'anno prossimo sicuramente l'obiettivo è superare i 220 chili vediamo l'abbiamo 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 è è l'abbiamo 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 85 kg, 6-7, 3 ripetizioni Ma che cazzo fai se fattano giri? Di alzali che sei ben fisico Leggera 84 kg 6 serie e 3 ripetizioni Grazie per la visione 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 Grazie per la visione